salve a tutti benvenuti a questo nuovo video in cui commenterò un'altra partita di un utente del canale mattia sabatelli conosciuto su chess.com col nickname di painception ok vediamo quindi una delle poche partite che abbiamo visto in questa serie che è giocata per corrispondenza addirittura mi pare 10 giorni per mossa quindi ultra pensata e tutto questo tempo si vede specialmente verso la fine dopo il nero riesce in qualche modo a tirar fuori un bell'attacco sull'avversario ok quindi cominciamo pure a vedere la partita painception gioca contro oreji xing xi non so bene l'origine di quest'altro giocatore ma andiamo a vedere ok mattia gioca con il nero e abbiamo un'apertura con perdone di donna qui si entra subito una difesa indiana caratterizzata da questa cavallo f6 il bianco devia dalle mosse solite giocando cavallo f3 questa mossa è abbastanza insolita perché va a controllare case che sono già del bianco solitamente si può viceversa spingere in c4 quella è sicuramente la più giocata per questo motivo viene giocata e6 e la partita viene rediretta su un gambetto di donna dopo c4 e d5 classica posizione del gambetto di donna a questo punto la mossa tocca al bianco che gioca cavallo c3 tipicamente sviluppando il cavallo dietro il pedone appena spinto questa ottima mossa e si risponde quasi simmetrizzando i cavalli con cavallo c6 a questo punto il gambetto si può dire non accettato e siamo entrati praticamente nella variante ortodossa che prevede la creazione da parte del nero di questa catena pedonale ok la partita prosegue con lo sviluppo dei fezzi alfere g5 alfere 7 schioda il cavallo c per d5 pedone per d5 e e3 a liberare l'alfere campo chiaro più o meno entrambi i giocatori si stanno sviluppando in modo piuttosto corretto quindi la rocca emette al sicuro il proprio re e il bianco sviluppa l'alfere in d3 cominciando un po' a infastidire la difesa del re nero qui mattia continua con cavallo b4 probabilmente questa è la prima mossa leggermente dubbia della partita perché venne rimosso per la seconda volta questo cavallo attaccasi l'alfere però l'alfere è difeso quindi al limite il bianco pur di guadagnare un paio di mosse potrebbe anche lasciarlo dove sta oppure eventualmente riposizionarlo nel 2 essendo questo l'alfere buono continuare l'attacco poi il cavallo della posizione b4 sarebbe successivamente forzato in modo facile a rimuovere ad esempio spingendo in a3 oppure attaccandolo per esempio con la donna ok viceversa il bianco gioca al fere b1 anche questa mossa non proprio chiarissima perché si ostacola poi lo sviluppo della torre che è nell'angolo c5 il nero comincia a far fuoco sui pedoni sul forze centro composto dai pedoni del bianco e qui a3 il cavallo del nero viene ricacciato indietro e però prima mattia di ritirare il cavallo gioca c per d4 quindi cerca di far fuori subito il centro del bianco perché è possibile questa mossa? perché contemporaneamente il nero sta minacciando anche il cavallo del bianco quindi se il bianco cattura il proprio cavallo il nero lo ricattura a sua volta il problema però di questa mossa è che il nero si sta creando un pedone isolato al centro e difatti dopo che il bianco ricattura di donna mantiene la propria struttura pedonale divisa in solo due isole mentre il nero avrà questo pedone piuttosto debole al centro non è detto che sia per forza una debolezza però con questo cavallo che probabilmente potrà venire cambiato molto presto non è detto che il pedone riesca a sopravvivere a lungo ok comunque ora viene salvato ovviamente il cavallo che va in c6 guadagna un tempo sulla donna bianca che viene rediretta in d3 e ora vedete c'è forte pressione sul punto h7 quindi qui il bianco sta minacciando di cambiare il cavallo per poi possibilmente dare scacco matto in h7 bene quindi giocata g6 per interrompere questo attacco e ora vediamo un po' cosa succede sembra che se il bianco cambia il cavallo poi possa far fuori il pedone d5 perché al momento il nero ha soltanto due difensori contro i due attaccanti del bianco vediamo però che non è così facile ad esempio qui se alfele per f6 segue alfele per f6 ora effettivamente il pedone può essere preso se viene preso di donna molto male perché la donna è sotto attacco e difesa solo dal cavallo qui il nero può rimuovere facilmente il difensore dando scacco al re e mentre il bianco è occupato a salvarsi il re non potrà difendere la propria donna che viene catturata alla mossa successiva alternativamente anche catturare con il cavallo non è proprio ottimale ora il cavallo potrà catturare l'alfiere con scacco se gli viene lasciato il permesso ma qui il nero si rifà prima sul pedone b2 andando anche a infastidire la torre che si spostano a due dopodiché il nero può anche passare all'attacco ora questa diagonale è piuttosto debole perché il cavallo non può rientrare in difesa in modo sicuro sicché dopo ad esempio donna d2 c'è il cambio di donne e il re rimane in questa posizione semiesposta magari prono a vedere il proprio cavallo inchiodato tuttavia ora il nero ha ancora l'alfiere sotto quindi prima lo deve rimuovere e diciamo in questo modo il nero ottiene probabilmente una posizione d'attacco alternativamente sempre dopo g6 il bianco poteva anche pensare di catturare subito con il cavallo invece di far fuori prima il cavallo avversario ad esempio cavallo per d5 il problema qui però è che il nero può sfruttare l'ottima funzionalità del proprio cavallo che può contemporaneamente catturare il pezzo che lo stava offendendo e allo stesso tempo difendere l'alfiere retrostante questa mossa inoltre apre un attacco di scoperta sull'alfiere camposcuro del nero quindi la più probabile alfiere per e7 cavallo per e7 il nero ha praticamente guadagnato un pezzo in questa manovra il bianco si avvede di tutto questo non cattura il pedone ancora ma prima gioca a rocco corto eventualmente preparandosi a raddoppiare gli sforzi sulla colonna d per far fuori il forte pedone del nero a questo punto Mattia sviluppa l'ultimo pezzo leggero con alfiere g4 l'intento può essere anche quello di cambiare il cavallo costringendo il bianco ad una posizione brutta dei pedoni sul lato di re però qui il bianco può tirar fuori il cavallo da guai con cavallo d4 attivando il cavallo e ponendolo in questo forte avamposto centrale dove non potrà essere attaccato da nessun pedone perché non ci sono pedoni presenti né sulla colonna e né sulla colonna sci ok d'altra parte però ora il bianco ha perso il controllo della casa e5 dove Mattia può inserire il proprio cavallo a sua volta portandolo verso l'attacco e guadagnando un tempo sulla donna quindi si muove in b5 molto pericolosa questa mossa perché nuovamente riattiva l'attacco sul punto d5 ma inoltre minaccia anche il pedone e7 ed ecco qual è la tattica ora di Mattia disinteressarsi del pedone b7 facendolo divenire una specie di pedone avvelenato viene giocata a6 in modo da molestare la donna bianca quasi invogliandola a catturare in b7 così avviene e ora torre b8 il nero ha forte contro gioco perché dopo che la donna si è mossa anche catturando un altro pedone poi effettivamente la torre nera cattura in b2 e si porta all'attacco in seconda traversa il problema di questa manovra però è che il bianco ha guadagnato un pedone quindi il nero ha sì un po' più d'attacco ma c'è da vedere se questo è sufficiente a compensare la perdita di materiale il bianco giocatore c1 attiva l'altra torre però si indebolisce ancor più le difese sul proprio re e qui viene giocata a torre g7 anche se forse il nero aveva già l'opportunità di porre un piccolo tranello al proprio avversario di fatti in alternativa poteva essere anche giocata a torre per f2 vediamo che questa torre se venisse catturata farebbe seguire alfer c8 quindi l'alfere si ritira guadagna un tempo sulla donna e soprattutto lascia la casa g4 vacante per il proprio cavallo che eventualmente darebbe scacco con attacco di scopetta sull'alfere campo oscuro dopo che il bianco ha salvato la propria donna ad esempio cavallo f g4 scacco il bianco si muove e il nero riprende un pezzo questa variante ne ha perso una torre per un pezzo leggero e un pedone ma ha ottenuto un forte attacco con questi tre pezzi che stanno attaccando il re avversario tra l'altro c'è pericolo anche per la donna bianca che potrebbe essere attaccata di scoperta da questa batteria donna più torre in ogni modo non era proprio sicura questa manovra Mattei ha preferito giocare re g7 difendendo maggiormente il proprio cavallo anche con il re quindi liberandosi eventualmente questi due pezzi dalla difesa nero gioca a 4 comincia a spingere il pedone passato che piano piano potrebbe diventare molto minaccioso man mano che cammina verso la promozione e qui comunque alfiere sciotto l'idea è sempre la solita questa alfiere in g4 non aveva al momento grande attività perché un po' tutte queste case a parte essere controllate dal cavallo ma non avrebbero restato alcun problema per il re avversario così facendo invece minaccia la donna e libera questa casa nuovamente per porci un cavallo che potrebbe essere molto più attivo nell'attacco ad esempio della casa f2 quindi il bianco sposta la donna in a8 e ora nuovamente c'è l'opportunità stavolta vista da Mattia di giocare torre per f2 ed è la mossa migliore addirittura in questa posizione difatti come prima se la torre venisse presa dovrebbe la possibilità di giocare cavallo fg4 scacco re 1 poi il bianco perde il pezzo e il nero riottiene l'attacco forte che abbiamo visto prima quindi giustamente qui il bianco ha detto ok per prima cosa mi libero di questa alfiere e cattura il cavallo ora qui il nero aveva sì l'opportunità di ricatturare l'alfiere con la torre guadagnando praticamente un pedone però ha maggiori possibilità se si dedica all'attacco ricatturando l'alfiere con l'alfiere un'altra volta il re bianco ha la possibilità di catturare la torre e stavolta l'accetta anche perché mantenere questa torre così forte in attacco sicuramente avrebbe dato problemi nelle mosse successive però dopo re per f2 nuovamente il nero ripassa all'attacco cavallo g4 scacco cavallo è comunque difeso dall'alfiere quindi portare il re fuori dalla propria catena pedonale sarebbe solo sintomo di insicurezza di posizione insicura per il bianco e quindi viene posto in g1 non è proprio la cosa migliore perché ora il re è chiuso dentro un corridoio vedremo in che modo il nero riesce a sfruttare questa possibilità la mossa migliore qui era re e 2 che mantiene il re in una posizione un po' aperta però se non altro rischia meno di prendere scacco matto ok quindi dopo re g1 ora sta al nero trovare un modo veloce per portare i propri pezzi all'attacco allora questo eventuale attacco di scoperta non può essere sfruttato in modo opportuno perché semplicemente il bianco potrebbe cambiare la donna quindi il nero prova a portare la donna velocemente in attacco e lo fa cambiando l'alfiere sul cavallo ok qui il bianco non vuole perdere il pezzo anche se forse rimarrebbe con vantaggio materiale comunque cattura l'alfiere dando la possibilità al nero di portare la donna in attacco e lo fa con donna g5 la donna si avvicina al re avversario attacca la torre e si prepara a porsi in una di queste case particolarmente pericolosa è la casa e3 dove darebbe scacco e forzerebbe il re bianco a chiudersi in una posizione certo non felice il bianco gioca quindi torre 1 nel tentativo di parare questa manovra ma ecco la mossa decisiva donna di 2 ed ecco che la donna come una piovra sta attaccando tutti i pezzi del bianco cavallo, torre e pedone sono tutti non difesi qui il bianco gioca al ferra 2 cercando di proteggere il pezzo più potente ma così facendo cade in un matto forzato probabilmente l'unica mossa che permetteva ancora di sopravvivere un pochino era al ferra di 3 che comunque avrebbe portato probabilmente il nero alla vittoria in modo veloce lo stesso quindi vediamo cosa è successo in partita dopo al ferra 2 se riuscite a vedere qui c'è uno scacco matto in 5 mosse uno scacco matto veramente classico ok pensateci un attimo poi vi svederò il segreto ok si tratta del classico matto affogato quindi il nero non prende il cavallo ma dà scacco con donna di 4 se vedete non c'è grandi cose da fare per il bianco può frappure la torre ma viene semplicemente mangiata e viene rinnovato lo stesso identico problema se sposta il re in f1 segue matto con donna f2 quindi il re si deve per forza spostare in h1 ma qui segue cavallo f2 scacco qui mossa unica re g2 e ora attenzione perché il nero gioca cavallo h3 scacco doppio contemporaneamente cavallo e donna la donna di scoperta danno scacco al re bianco in questi casi il bianco è forzato a muoversi perché non ha modo di eliminare contemporaneamente le due minacce qui nuovamente non può andare in f1 per via del matto deve andare per forza in h1 e con quest'ultima mossa in particolare il cavallo va a controllare la casa g1 e qui finisce facilmente la combinazione con questo bellissimo sacrificio donna al g1 scacco il re non può prendere proprio perché c'è il cavallo che difende la donna unica per salvarsi torre per g1 e segue questo bellissimo matto con cavallo f2 il re impossibilitato a muoversi dai propri pezzi prende matto dal pezzo saltante il cavallo ok bella veramente bella partita complimenti a mattia e con tutti gli altri ci vediamo al prossimo video a presto e in bocca al lupo ciao ciao ciao